E che faccio? Non ci condendete? Esci fuori! Esci fuori? E non ce lo metti della macchina? Emidio, vai un po' con le mani, butta le mani! Vedi se lo metti? E questo non sta a fare così. Allora, com'è questo barcone signore? E' bellissimo. Che l'ha fatto? Ci sono i mastri? Eh, i mastri voglio, più gente che ha un barcone. Eh, sono 15 persone, un barcone 14 metri. Ah, c'è uno in più allora. Bello barcone di lusso. E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo. Dove sei? Ehi, vieni qua che lo faccio qua. L'ha fatto qua, vieni. Allora, dove procede questo barcone eh? E' ucciso! E' ucciso! E' da 5 anni che stiamo insieme. Quanta metri so' sto barcone? Quattordici metri. Quattordici metri? E' di marmo che te la dai? Dica io, la postiglia come ho. Ma dove? Ce l'ha già postiglia, lo vedo come hai usato a portare. Attenzione. E poi? E poi che cosa? Ma che stai facendo stare? Ma dove hai fatto la fotografia? Non hai fatto qui qui? Sì, l'ha già fatto. Che l'ha che faccia? Boah, qua qui ti chiamate! Avrai ragione! Almeno non ti faccio come si vengono! Ah eh eh. Non ti capo. Un'ora qua vinta bene, non ti rinta e s' normala! Vabbè, 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 vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Vetti G, vetti G, quel capì! Vandi! Mi stai assimerì! Che cosa sia cercato? Che cosa sia? Mi trovi? Mi trovi per farci! Ehm! 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 un po' di una pezzi eh oh ma questo è giusto 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 questo è giusto dai uno due e tre e quando si fa e e e e e e e giovane e 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